E a me piace fare le compilations. Lavoro in un negozio di dischi. Ecco, fai il consulente musicale. Facciamo conoscere ancora più musica e guadagniamo ancora più soldi. E chi cazzo è che si compra 5 miliardi di lire in cassette Vergine? Rischi zero e diventiamo ricchi. Noi e voi. Mi sfatto in galera, non ti faccia il città. Il giro d'affare è diventato importante. Quanti fratelli siete? Non siamo due, siamo tre. Tutti voi tre, Mick Zed, vai e Harry. Tecnicamente tutti e tre. Soprattutto se parliamo in termini sociali. Vaglio, Harry, di cazzo. E lui io no. Fixers by Harry! Tieni un modo strano di fare il DJ? Non mi piace. Siete la prima etichetta discografica in Italia. Questi ci vogliono fare la guerra. E noi ci prepariamo a vincerle, mo' la guerra. Io volevo solo fare il DJ. Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria, acqua nel deserto, gloria.